Esatto, è un esempio simile a quello che hai presentato a te. Hai provato a usare dei clock personalizzati? No. Mi spiego mai. Ok, fatte. Ho capito che lo dici, ma non l'ho mai utilizzato. Fattelo, piuttosto, il clock personalizzato si fa così, te lo mostro. O sai già come si fa? No, mostro, mi mostro così, ripetite Yuvan, perché non l'ho utilizzato quasi mai. Ok. Ok, lo faccio qua in fondo, c'è qualche segmentino vuoto. Si vede, no, il programma, sì? Sì, sì, sì. Ora tu hai il computer piccolo, quindi metto lo zoom per cechi, ok, ci sta.